Cosa cambia con le elezioni regionali 2014? Il Consiglio regionale è l'assemblea che rappresenta direttamente i cittadini del Piemonte. Eletto dai cittadini, il Consiglio è l'organo che discute e approva le leggi regionali. Con le elezioni del 2014, il Consiglio regionale sarà composto da 50 consiglieri, riuniti in gruppi consigliari secondo le diverse appartenenze politiche. A seguito della riduzione da 60 al 50 del numero dei consiglieri, i seggi saranno così distribuiti. 10 consiglieri, oltre al Presidente della Giunta, eletti con il sistema maggioritario e il cosiddetto listino. 40 consiglieri, eletti nelle circoscrizioni provinciali in base alla popolazione. La principale funzione del Consiglio è quella legislativa. Come stabilito dallo Statuto, possono presentare iniziative di legge la Giunta regionale, i consiglieri regionali, i consigli provinciali e comunali, oppure 8.000 elettori mediante iniziativa legislativa popolare. Sulla scheda verde si vota per eleggere il Presidente della Regione e il nuovo Consiglio regionale, domenica 25 maggio, dalle ore 7 alle ore 23. Grazie per la visione!